Musica Potrebbe essere l'ennesimo venerdì di disagi domani per pendolare i lombardi. CGL, CISL, UIL e UGL hanno indetto uno sciopero del personale di rete ferroviaria italiana. Traffico a rischio per la rete di Trenitalia. I convogli di Trenord sulle linee delle ferrovie dello Stato potrebbero subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Previste come di consueto le fasce di garanzia. L'agitazione delle ferrovie dello Stato inizierà alle 9 e terminerà alle 17. I rischi maggiori sono per le linee suburbane S1, S2, S4, S9, S13 e sul Malpensa Express. Trenord invita i viaggiatori alla massima attenzione agli annunci, ai monitor e alle informazioni sul sito web cercando così di evitare i disagi causati dall'ultimo sciopero. Sarà possibile seguire la situazione in tempo reale attraverso l'account Twitter delle Ferrovie Nord e attraverso il call center 027 249 4949 attivo dalle 7 alle 21. La mobilitazione, spiegano i sindacati, è stata indetta dopo il mancato accordo con rete ferroviaria italiana su alcuni temi rilevanti come la forte carenza di personale e l'eccessivo ricorso agli straordinari da parte dell'azienda. La CGL, CISL, UGL lamentano anche scarsa attenzione rispetto alle condizioni di lavoro dei dipendenti in particolare nel nuovo posto centrale di Milano in via Breda.